Mi chiamo Roberto Bertinetti, sono CEO e co-founder di Kimsu. Il mio lavoro ha preso forma da bambino, perché io vengo da una famiglia di imprenditori e quindi tutte le mie scelte fin da quando ero un bambino erano orientate in questa direzione. Upo ha giocato un ruolo fondamentale perché mi ha fornito i mezzi grazie ai quali ho potuto raggiungere il mio obiettivo, quindi le conoscenze, i contatti, ma anche proprio la forma mentis per essere dove sono adesso. Sicuramente la parola chiave che più rappresenta a me l'università è positività, nel senso che io personalmente sono una persona che cerca sempre di analizzare le difficoltà, comprenderle, ma reagire in modo proprio positivo, più orientato alla soluzione che al problema stesso. Nell'università ho trovato esattamente questo tipo di atteggiamento, dall'università stessa le persone che ci lavorano, i professori, gli studenti, mi sono trovato il mio agio, anzi è stata rafforzata questa cosa in me. Ci sono varie persone che rimangono impresse, però forse una che è stata molto importante è stato un professore, il professor Capizzi, che è una persona di grande successo, quindi una persona che ti fa, lavorandoci ed essendoci a stretto contatto, ti fa capire quanto gli obiettivi siano raggiungibili, perché è importante osservare gli altri, usarli come punto di riferimento anche senza farsi vincolare dalle persone attorno a te, ma allo stesso modo rendendosi conto che ti aiutano a capire dove sei e dove puoi arrivare. Studierei sicuramente ancora a lupo, perché sicuramente ho ottenuto una preparazione di primo ordine, ho avuto la possibilità di conoscere colleghi e professori di primo ordine, insomma mi ha aperto tantissime opportunità e lo consiglierei per questi motivi, oltre al fatto che è un bel ambiente, è importante anche l'ambiente che ti sta intorno, l'energia, il modo di affrontare le cose, sicuramente in questa università mi sono trovato benissimo. Grazie a tutti!